Un altro giovane, anzi giovanissimo, musicista di quarta generazione, il bisnonno era salvatore, papaccio, tenore, diarie napoletane. Il nonno, Furio Rendine, e il papà, Sergio Rendine, che erano entrambi i compositori, e poi Giacomo. Giacomo ha vent'anni, è davvero molto giovane, e stasera presenta la prima esecuzione assoluta di un brano di sua composizione, che oltre a poter essere definito classico moderno, ha una particolarità. Questo brano è nato attraverso anche la collaborazione di altri due artisti, che sono Paolo Micichè e Emiliano Migliarucci, e una fusione con composizione, musica ed un video, un video musicale. Allora noi lo ascoltiamo e lo vediamo, questo video e questa musica per cui ha anche suoni. Tutti da vedere e da sentire con Giacomo, Giacomo Rendine! Grazie! grazie a tutti 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 grazie a tutti